Collegato il senatore Claudio Borghi, Lega Economista, senatore benvenuto e buon anno anche a lei. Perché noi siamo partiti dalle bollette? Perché c'è un passaggio molto importante dal mercato libero, dal tutelato a quello libero. Che cosa cambia per i consumatori? Tanto la buona notizia in tutte queste è che l'inflazione è leggermente calata e questo dipende anche dal prezzo dell'energia. E' così, senatore Borghi? La BCE alla fine una l'ha azzeccata, cioè quello di alzare i tassi di interesse? Beh, insomma, azzeccato di alzare i tassi di interesse mica tanto, nel senso che ovviamente se non li alzava era meglio. Ecco, mettiamola così. L'inflazione però è calata, insomma, quindi la buona notizia dell'anno. Ma ovviamente non è calata per l'intervento della BCE, è calata perché c'erano dei colli di bottiglia derivanti da guerra, fine lockdown, fine covid, no? E così via, che avevano, diciamo così, messo delle strozzature alla produzione e cercare di curare queste strozzature della produzione che c'erano state in questi periodi con il rialzo dei tassi di interesse è come far passare la febbre mettendo uno in frigo, ecco, non so come dire. Poi uno dice, ah guarda, scende la temperatura, ma non è esattamente salutare, insomma, no? Quello che uno ha fatto. Per cui, insomma, da quel lato lì non va. Però è indubbio che dal lato dei prezzi, dal lato anche dell'energia stessa, appunto, no? Si sta tornando alla normalità. E questa è una buona notizia, direi, per tutti. Quindi aggiungo un'altra buona notizia che mi verrebbe da dare, vale a dire che sull'aspetto appunto del mercato tutelato e dei mercati dell'energia, nonostante, insomma, noi avremmo spinto e abbiamo spinto sempre per delle proroghe molto più evidenti, al lato pratico però è come se la proroga ci fosse, ecco, mettiamola così. Quindi nessuno si deve preoccupare dicendo, oddio, oddio, che cosa succede se non faccio niente, se non cambio niente. Ecco, no, non succede, al momento non succede nulla e in ogni caso sia per il gas, per l'energia è stato tutelato di alcuni mesi, è stato prorogato di alcuni mesi. Per il gas c'è un sistema che andrà avanti fino al 2027, diciamo così, di fase di uscita. Andremo nel dettaglio. Adesso andremo nel dettaglio. Direi che si possa stare tranquilli. Di altri paesi dove c'è stato il mercato libero, noi abbiamo un ginepraio di società, molte anche pezzotte, che sono state indagate, sciolte. Noi stiamo dando in mano al peggior sistema possibile i nostri concittadini. E' una responsabilità enorme che noi contestiamo fortemente. Allora, Borghi, una risposta e poi andiamo dall'esperto per capire se alla fine veramente noi pagheremo di più o pagheremo di meno. Perché ci sono... pagheremo di più o pagheremo di meno? Vengo subito da lei. Dipende dal contratto che scegliamo. Potremmo pagare di più. I più deboli pagheranno di più. Potremmo pagare di più. Se era una cosa a favore dei cittadini non la facevano, quindi pagheremo di più. Perché non si capisce per quale motivo uno si batte per fare un mercato che fa guadagnare di meno. Pagheremo di più e guadagneranno sempre di più gli stessi. Sicuramente chi è stato in libero in questi anni, dati statta, a meno che non ha sottoscritto un contratto veramente vantaggioso, ha pagato mediamente di più di chi si è trovato del mercato. Ma è il tema che stanno andando. Far pagare di più... Stiamo dicendo la stessa cosa. Lo so, lo so. Proprio ad aiutando. A questo punto posso andare dal senatore Borghi. Senatore Borghi, come dice l'onorevole Borrelli, si apre il mercato delle vacche? Insomma, cito, quota testuale. Ma insomma, rimango un po' perplesso dal vedere l'onorevole Borrelli che dice, fanno, hanno fatto. Ma la situazione del mercato, la scelta di passare al mercato libero l'ha votata a suo partito, anche perché era dentro nel PNRR. Era dentro nel PNRR, era una voce del PNRR che prevedeva che noi ci impegnavamo a passare. Il PNRR è stato votato, ovviamente, dal suo partito e negoziato da Amendola del PD. Però scusatemi, io non posso accettare che c'è una persona di valescio che... Quindi non so neanche di che parliamo. Guardi che siete da 40 anni in Parlamento, non noi. Si documenti, almeno si documenti. Lei arriva qua, si documenta almeno su chi è il suo interlocutore. Cosa ha votato Maio? Cosa ha votato? Scusi, il suo partito, non era forse il suo partito, era quello di Speranza che erano dentro nel governo Draghi? Ma che sta dicendo? Vedete perché bisogna... Ah no, sono arrivati all'ultimo momento, no, non era quello. Non era il candidato con voi, Speranza. Non faccio parte del partito di Speranza. No, no, è un altro, è arrivato così, è arrivato all'ultimo. Ma lei non conosce neanche la mia storia, nessuno ha in Parlamento. È arrivato all'ultimo, ma scusi, lei non è mica anche quello di Summaoro, cose di questo tipo. Non faccio parte di un partito che si è rubato 49 milioni di euro. Quello sì me lo ricordo, i 49 milioni di euro sicuramente non li ho rubati io. Come sempre arriviamo a 49 milioni di euro che erano guarda caso quelli dei rimborsi elettorali. Non stanno a parlare al governo come ce ne sono stati voi negli ultimi 5 anni. Vedete come funziona? Assolutamente. Abbiamo una domanda, scusate. Vedete come funziona? Io vorrei tornare alle bollette. Gli si ricorda le origini, scusate, però posso provare a dire due cose. Facciamolo a rispondere, lo faccio a rispondere Borrelli, la prego. Mi si è cascato anche il microfono, guardi. Ma è come dire qua, iniziamo l'anno con pessime abitudini mi verrebbe da dire, no? Perché guarda caso, comunque vabbè, avete visto cosa succede quando sono punti sul vivo, eh? Prendono e danno di lato. Non lo sfuggere si dì, ridate i soldi agli italiani. Onorevole Borrelli, facciamo finire il senatore Borghi, per favore, se no non si capisce niente a casa, anche perché gli italiani sono più interessati, credo, alle bollette. Grazie. Senatore. Allora, perché ci si è trovati in questa fastidiosa situazione del mercato, della fine del mercato tutelato? Che io avrei lasciato sempre, per un motivo semplice, che nessuno impedisce, ne impediva di passare al libero prima e quindi era semplicemente, come dire, una scelta aggiuntiva, no? Che poteva essere lasciata quella di rimanere a un mercato regolato. Il mercato libero è come dire, io mi faccio il vestito su misura. Se uno è in grado di farselo bene, il vestito su misura gli starà anche meglio. Se invece io non è in grado di saperselo fare, la taglia standard che va bene per tutti, è probabile che gli stia meglio. Quindi noi, diciamo, ci siamo battuti e continueremo a farlo, diciamo, per ulteriori proroghe tutele, perché pensiamo che sia una cosa giusta nei confronti dei cittadini. Ma perché si è arrivati a questo momento? Perché l'impegno di far terminare il mercato tutelato era stato scritto nel PNRR. Quindi fra le condizioni che il governo precedente, quindi prima quello, diciamo, Conte e poi quello Draghi, avevano posto per riuscire a chiudere la trattativa sul PNRR, guarda caso c'era anche questa. C'era stata la liberalizzazione, è chiaro. C'era stata la liberalizzazione, quindi dato che i soldi derivanti da questo impegno già c'erano stati versati, il ministro Fitto ha detto no, io non sono d'accordo e si mantiene l'impegno così come era stato. Chiarissimo. Noi pagheremo meno le nostre bollette se saremo sempre più indipendenti energeticamente invece di andare a comprare l'energia fuori. Però ci sono una serie di problemi e di proteste. Vado la nostra a Laura Placenti. Laura, c'è grande fermento nella Valle dei Templi, sembra il titolo di un film. Qui verrà installato un rigassificatore, tra l'altro approvato dal governo con un decreto energia. Verrà installato a Porto e Pedocle e quindi praticamente la cittadinanza è molto preoccupata, ma non solamente per questo ma anche perché verrà realizzato un gasdotto che passerà sotto la Valle dei Templi. Naturalmente la Valle dei Templi, come tutti sappiamo, va a vincolo UNESCO, quindi non sarebbe legittimo realizzare un gasdotto di questo tipo. Il gasdotto servirebbe a far sì che il gas che viene trattato nel rigassificatore andrebbe portato nella rete e quindi utile alla cittadinanza. Laura, volevo anche far rispondere un po' lo studio a questa cosa in particolare. Volevo andare dal senatore Borghi, dal governo. Allora, è stata data l'autorizzazione e poi scaduta, prorogata. Sono vent'anni che va avanti questa storia. Allora, come diceva Tabarelli e come ha sempre detto anche qua da noi, noi abbiamo gas, potremo utilizzare proprio il nostro gas. Ma non è che rischiamo di arrivare un po' tardi con questo progetto, un progetto vecchio di vent'anni oltretutto, quando poi magari non ci sarà neanche più bisogno. Qui parliamo di un rigassificatore e di un gasdotto. Chiede a me? Sì, chiedo a lei. No, ma in realtà è tornato di attualità perché quando c'era il gas che arrivava dalla Russia non c'era nessun bisogno di questo rigassificatore. Ovviamente se si è deciso di chiudere i rubinetti con la Russia, il gas deve arrivare da qualche altra parte. Parte è stato sostituito con l'Algeria, però voi vi sentite tranquillissimi a passare dalla dipendenza dalla Russia a quella dell'Algeria. I rigassificatori servono per, diciamo così, evitare il rischio che a un certo punto qualcuno di sua iniziativa chiude i rubinetti. Io capisco perfettamente le preoccupazioni dei cittadini di Porto Empedocle e di Agrigento. Io ho combattuto per dire contro il rigassificatore, perdendo, perché non sempre tutte le battaglie si vincono, contro il rigassificatore di Piombino. Il motivo per cui ho combattuto contro Piombino era che quella città aveva sempre avuto tutto, cioè nel senso l'argomento normalmente è non nel mio giardino. Ecco, i poveri cittadini di Piombino hanno tutto nel loro giardino, perché ogni volta che in Toscana c'era da fare qualcosa che potenzialmente poteva essere impattante, perché si faceva Piombino. Allora mi sembrava che forse lasciare un po' di fiato a questi poveri cristiani poteva essere un'idea corretta. Per Porto Empedocle vale lo stesso di qualsiasi altra zona italiana. Non è che il rigassificatore viene fatto nella Valle dei Templi o nella Scala dei Turchi, il rigassificatore viene fatto nel porto commerciale che già c'è. Insomma, ci sono le navi che nella banchina di Porto Empedocle scaricano le navi merci che scaricano i prodotti. No, no, no. Quindi a me dispiace, nel senso che capisco che non è mai piacevole, però alla fine le conseguenze sono queste. Cioè la scelta è stata quella di chiudere i gasdotti dalla Russia, la conseguenza è che il gas deve arrivare da qualsiasi parte sia in vendita e l'unica maniera sono le navi e quindi ci vogliono i rigassificatori. Gioia Tauro sarebbe più opportuno perché l'hanno chiesto loro, mi verrebbe da dire. Però vabbè, qui è già avanzato il progetto e le autorizzazioni. Grazie. Grazie. Grazie.